Ciao a tutti ragazzi sono Zodiac e ben ritrovato alla top 5 place of the week ovvero la top 5 composta dai vostri migliori clip e ci inviate tutte le settimane all'e-mail che state vedendo questa top 5 è gentilmente sponsorizzata da Outpage Italia link e info in descrizione e adesso partiamo al quinto posto ragazzi abbiamo Wilfred un nome originale che fa una quintupla di C4 davvero meravigliosa Wilfred che era anche il nome del maiale di Ralph in Headed Headed non so se qualcuno se lo guardava ma la tralasciamo al quarto posto ragazzi abbiamo Slavers Patto Slaver Impatto il nostro Slavers fa una tripla poi spara una quadrupla di C4 e comunque inizia questa strage assurda con questo PDV con questa mimetica Arsenale 115 davvero una strage fantastica perché qua una volta che sei nello spawn di Nuketown davvero te la puoi destreggiare però alla fine muore al terzo posto ragazzi c'è il nostro Funky Nano cattivissimo guardate lui come inizia le partite su cargo in Team Deathmatch allora inizia bastardissimo con i lancegranate i coltellini Tomok e fa una killa in patto diretto con il lancegranate e la doppia di Tomok vediamo la visuale parte il Tomok è già partito anche il lancegranate e tutto il resto pam! prende il primo il secondo il terzo guardate viene preso direttamente in mezzo ai coglioni bam! poverino comunque giriamo la visuale invertiamo così ci togliamo ogni dubbio se qualcuno ne dovesse avere primo, secondo arriva il terzo e arriva qua il coltellino e è andato anche lui al secondo posto Orgezzi invece troviamo uno scoppiato su Call of Duty Ghost che ci invia una bellissima clip fatta col cecchino qua ne prende due e attenzione qua cosa scopre uno, due, tre, quattro bam! five men on screen davvero bellissima questa clip è il primo posto ragazzi abbiamo uno svitato davvero un matto che fa una clip davvero bellissima con il cecchino adesso qua fa un qui che ne prende uno headshot scialla adesso guardate cosa ci combina le collaterale assurda la prima collaterale headshot la seconda e poi la quinta cioè l'ultimo che fa una five men on screen anche lui davvero bellissima inviateci le vostre clip all'email che state vedendo qui jtf.clips.gmail.com e ci si vede mercoledì prossimo con un'altra talk mi raccomando arriviamo a 800 like passate dalla pagina facebook iscrivetevi al canale e ciao ragazzi a mercoledì prossimo ho una giolla che sembra un bazzucca nella tuta mi piace non ti piace il gtf figa non ti ammazzati figa sparati quando arrivo devi farmi passare grazie mille